Ragazzi come potete vedere sono venuto ad assistere al panorama del famoso viadotto di Harry Potter non ha bisogno di presentazioni a dire il vero però c'è anche chi non è tanto appassionato io confesso non sono un grandissimo fan ma è sempre bello assistere a paesaggi nuovi, belli e scenografici come questo ad oggi ancora passa in realtà il treno a vapore, si chiama il Jacobit Steam Train ma non è molto frequente quindi io per le mie tappe di viaggio non posso attendere oltre però è bello, davvero bello, vi consiglio di venire ad assistere Glenfinnan non è un paese da visitare, non è un posto da visitare ulteriormente se non per il monumento alla memoria e per il viadotto che vi ho appena mostrato ora vi voglio mostrare il monumento che si trova qui in riva al lago il luogo non è stato scelto a caso in quanto qui nel 1745 Bonfinzi Charlie a Zoe Stennati radunando tutti i grandi proziesi per combattere contro l'esercito inglese probabilmente alcuni sapranno che l'epilogo di quella triste vicenda si è rivolta con la battaglia di Culloden dove gli Scozzi sono stati trucidati un scenario fantastico con il lago e le montagne come potete vedere la Scozia regala sempre emozioni da un punto di vista naturale prima di riprendere il mio viaggio verso il grande nord c'è un posto che voglio visitare una spiaggia nell'estremo ovest della costa scozzese a presto con il prossimo video, ciao!